Ehi, non c'è squadra più forte della Juve, forza Juve! Juve, Juve, Juve! Che ragazze? Che ragazze? Che ragazze? Che ragazze? Oggi facciamo un football challenge! Una nuova football challenge table, si sfideranno le squadre della Juventus, impersonate da Cristian, e dell'Ajax, che guiderò io, quindi Ajax vs Juventus! Pronto per cercare il campo? Sì! Andiamo! Benvenuti a questo fantastico match della Champions League, Ajax vs Juventus, palla al centrocampo per il calcio d'inizio. Palla a Juventus in centrocampo, si avvicina, sottoporta la Juventus, ecco che la Juventus attacca, attacca, ed è sempre sottoporta. E per il poco facciamo gol, continua ad attaccare la fortissima Juventus, per trovare scoperta da Juventus! 1-0 per la Juventus, si riferisce la centrocampo per l'Ajax, per il ruolo rimontare, ecco che un giocatore infortunato dell'Ajax, è tutto storto, è tutto storto, ecco che la Juventus, difesa ottima dell'Ajax, attacca la Juventus in perterta, è dato per poco fa il signore di nuovo, parata, ecco, ah su questo puto è storto! Il giocatore dell'Ajax è un po' storto, Juventus avanza, centro capo, palla al Ajax, sbaglia, 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 no, è così, parata, parata di Juventus! Fine primo tempo, 1-0 per la Juventus! Forza Juve! Chi ha segnato il gol della Juventus? Io, io, io! Ma chi era? Ronaldo? Sì. Ronaldo, sempre il grande campione Ronaldo. Pronti per la seconda parte del match? Forza Juve! Palla allaia! È mia! Ah no, palla allaia si rubata dalla Juventus subito! Ecco che tira il Ajax, ottima difesa del Ajax, il Ajax sottoporta, tira, ma sono tutti storti questi giocatori del Ajax, comunque riescono ad intercettare la palla, la Juve sottoporta, passa, passa, ecco, ottima azione, no, quello lì, quello lì, è ubriato questo giocatore, è ubriato, è ubriato, è ubriato, no, di nuovo Ronaldo sottoporta, Ronaldo che sta prendendo la mira, in piedi, lo si, 30, GOOOOOOOH! Brava l'uscita, 2 giocatori al Juventus, parata dell'Ajax, anche se non riesce più a fare niente, l'Ajax è confuso, sembrano tutti ubriati, Con questa palla non va E tutto l'Ajax Oh, sotto No, sbaglia Sbaglia l'ennesimo tiro Sbaglia l'ennesimo tiro Tira E finisce così la partita Champions League Il match si conclude Con la vittoria del Ventus Per 2 a 0 E' tutto l'ora C'è anche la rivista C'è anche la rivista Allora, intanto abbiamo la mia sorpresa Quindi ora abbiamo Oh, la palla viola Oh, io mi mangio già la gomma da masticare Oh, guardate Sembra una cosa dell'Inter Il minicampo No, è una porta È una porta Attento a non romperla Scusa un attimo Sì, è una porta Ma di cartone Che porta è? Porta Portatile Portatile Goal Bravo Ciao Ciao Grazie a tutti.